Vi siete mai chiesti se tutto ciò che ci è stato insegnato sulla democrazia regga davvero alla prova dei fatti? La mia visione sulla democrazia è stata completamente trasformata da questo fantastico libro che mette in discussione molte delle nostre convinzioni più radicate. Oggi sfaderemo 12 miti sulla democrazia, ispirandoci a quest'opera rivelatrice per mostrarvi verità sorprendenti che potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui la vediamo. Come sempre, su questo canale, preparatevi a mettere in discussione quello che credevate fosse intoccabile. Primo mito. Votare è importante. In periodo elettorale ci viene detto spesso che il tuo voto è importante. In verità, la possibilità che il nostro singolo voto possa influire sul risultato è matematicamente quasi irrilevante. Ma le cose vanno pure peggio, in quanto i politici, una volta al potere, prenderanno in nostra vece decisioni sulle quali non avremo più alcuna influenza. Dopo averli eletti, infatti, non saremo più in grado di controllarli e per quattro anni agiranno come vorranno senza che al riguardo non si possa fare alcunché. Come se non bastasse, dopo essere stati eletti, i partiti o i politici che qualcuno di noi ha votato molto spesso si rimangiano le promesse fatte in campagna elettorale. A quel punto dovremmo poterli denunciare per truffa, ma a quanto pare non ci è concesso. Nonostante tutto questo, i rappresentanti di ogni schieramento sollecitano continuamente i cittadini a votare, ponendo sempre forte enfasi sul fatto che tramite il voto la gente potrà esercitare una concreta influenza sulle future politiche del governo. Ciò a cui sono realmente interessati, invece, è solo un'alta affluenza alle urne, tale da conferire alla classe politica una sorta di sigillo di approvazione, un diritto morale a comandare sul popolo. Secondo mito, in democrazia governa il popolo. Il primo problema legato a questo mito sorge dal fatto che il popolo di fatto non esiste. Vi sono piuttosto milioni di individui con tante opinioni e molteplici interessi. A regnare in democrazia non è affatto il volere del popolo, ma quello dei politici, plasmato dai gruppi di pressione, dagli attivisti e dai professionisti del lobbyismo in generale. La cosa non dovrebbe sorprenderci più di tanto. In fondo, sappiamo che in gran parte dell'operato dei governi non incontra l'approvazione dei cittadini. A prendere le decisioni, dietro le quinte, è infatti una restretta elite di persone, mentre il governo, incurante di ciò che il popolo vuole, sperpera somme colossali in progetti assurdi o discutibili. Accumula enormi debiti, consente immigrazione di massa gradite a ben pochi cittadini, spia la popolazione e così via. Per fare un esempio, chi mai trasferirebbe volontariamente, attenzione volontariamente, migliaia di euro sul conto corrente del governo affinché possa mandare l'esercito a combattere in suo nome? Non dico dove, in qualsiasi posto. Spesso si afferma che la democrazia costituisce un buon sistema per limitare il potere dei governanti. Ma come possiamo vedere, la cosa si sta rivelando nient'altro che l'ennesimo mito. I governanti possono fare praticamente tutto quello che vogliono. Anche quando non vengono rieletti, i politici finiscono spesso con l'insediarsi in poltrone assai lucrative presso i vari enti che vivono in simbiosi con lo Stato. Emittenti televisive, sindacati, commissioni, università, ONG, società pubbliche, insomma tutto. Un cambio di governo, pertanto, non significa necessariamente un cambio di coloro che manovrano le leve del potere. Il controllo democratico è davvero più limitato di quanto possa sembrare a prima vista. Terzo mito. La maggioranza ha ragione. Non vi è alcuna garanzia che il processo democratico porti necessariamente a risultati buoni e giusti. Il solo fatto che un numero elevato di persone creda in qualcosa non la rende di certo vera. In democrazia la quantità scalza la qualità perché il numero di coloro che vogliono qualcosa prevale su qualunque considerazione di tipo morale o razionale. Come scriveva Halberon Herbert, se cinque uomini sono in una stanza, il fatto che tre di loro abbiano un'opinione in comune dà forse meno un qualche diritto morale di imporla ai due rimanenti. Quale magico potere ha potuto trasformare quel vantaggio numerico di una unità in uno strumento di controllo delle menti e dei corpi altrui? Dobbiamo quindi concludere che il meccanismo di base della democrazia, il fatto cioè che a decidere sia la maggioranza, è fondamentalmente immorale. Ok, prima di passare al quarto mito, direi di mettere al voto se iscrivervi al canale oppure no. Ti vota per iscriversi? Va bene. Scherzi a parte, questo mi sembra un bel momento per cliccare su mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per sapere quando pubblicherò il prossimo video. Quarto mito, la democrazia è politicamente neutrale. Per quanto a molti sembri che la democrazia sia compatibile con qualsiasi indirizzo politico, in verità essa sottende una specifica direzione politica. Per definizione, infatti, la democrazia è il frutto di un'idea collettivista. Il concetto essenziale è che le decisioni vengono prese insieme e poi siano rispettate da tutti. In democrazia praticamente ogni cosa potrebbe essere oggetto di consultazione pubblica e non sembrano esservi limiti invalidabili alle possibilità di collettivizzazione. In democrazia non esiste alcuna libertà individuale, davvero inviolabile. È vero che gli orientamenti politici possono variare, portando talvolta a ridimensionamenti della sfera di influenza pubblica, ma nel lungo periodo le democrazie occidentali avanzano costantemente nella direzione di interferenze sempre più pesanti, di una maggiore dipendenza dello Stato e di una spesa pubblica sempre più elevata. I dati dimostrano che a prescindere da quale partito sia al potere, di destra o di sinistra, la democrazia non è neutrale, ma tende per propria natura verso un grado di collettivismo sempre maggiore ed un accentramento di poteri da parte del governo. Quinto mito. La democrazia conduce alla prosperità. Godendo molti paesi democratici di un elevato livello di benessere, la gente, spesso e volentieri, è portata a pensare che la democrazia sia un sistema indispensabile per raggiungere la prosperità economica. In realtà è vero il contrario. La democrazia non crea benessere, bensì lo distrugge. Le società occidentali sono prospere non tanto grazie al sistema democratico, ma piuttosto malgrado la sua presenza. La ricchezza di cui godono si deve alla pratica tradizionale di alcuni sani principi liberali, che le ha contraddistinte e che nel tempo ha favorito un adeguato accumulo di beni capitali. La prosperità si crea laddove i diritti individuali sono protetti, in particolare i diritti di proprietà. Il benessere, in altre parole, si sviluppa meglio in quegli ambiti dove ai cittadini vengono lasciate maggiori possibilità di trattenere i frutti del proprio lavoro. Solo in tale contesto le persone sono motivate a lavorare sodo, ad assumersi dei rischi e ad impiegare in modo efficiente le risorse disponibili. In democrazia, tuttavia, i cittadini sono incentivati a trarre vantaggi e benefici a spese del prossimo e a scaricare i propri costi sulle spalle altrui. Questo processo è estremamente dannoso per la prosperità e la crescita economica complessiva di un paese. Sesto mito. La democrazia è necessaria per assicurare un'equa distribuzione della ricchezza e per fornire assistenza ai poveri. I politici parlano spesso di giusta condivisione della ricchezza, ma i loro schemi retributivi quanto sono coerenti ai principi di solidarietà? La realtà è che la maggior parte delle sovvenzioni e degli incentivi finiscono nelle tasche dei gruppi di interesse. La gestione democratica degenera inevitabilmente in una macchina di redistribuzione che favorisce i soggetti più influenti ed organizzati a spese di tutti gli altri e spesso sono proprio le fasce di reddito più alte a godere in misura maggiore dei trasferimenti statali. Molte persone temono che qualora l'istruzione, la sanità, i trasporti pubblici siano lasciati in balia delle forze del libero mercato, i poveri non potranno più permettersi beni e servizi di primaria importanza. Il libero mercato, tuttavia, ha sempre dimostrato di saper svolgere un ottimo lavoro nel fornire ai poveri ciò di cui hanno bisogno. I supermercati, ad esempio, mettono a nostra disposizione prodotti di elevatissima qualità a prezzi contenuti, offrendo ampia scelta e varietà. La verità è che se lo Stato non si intromettesse più nell'istruzione, nella sanità e nell'assistenza sociale, la qualità dei servizi non ne soffrirebbe, anzi tutto il contrario, aumenterebbe. Proviamo a chiederci, come controprova, quale sarebbe la qualità dei supermercati se fossero gestiti come la scuola pubblica. Settimo mito. La democrazia è necessaria per una vita sociale pacifica e armonica. La gente spesso pensa che i conflitti sociali possano essere evitati ricorrendo a un processo decisionale democratico. Al contrario, è proprio quest'ultimo che tende, con maggiore frequenza, a generare conflitti tra le persone o tra i gruppi sociali. Ciò è dovuto al fatto che, in una democrazia, tutti i contrasti personali o sociali vengono elevati a problemi collettivi. Forzando tutti i cittadini a piegarsi alle decisioni della maggioranza, la democrazia fomenta rapporti di scontro ed antagonismo piuttosto che di pace e di armonia. Immaginiamo di decidere democraticamente il tipo e la qualità di pane da sfornare ogni giorno. La cosa porterebbe a infiniti dibattiti, pressioni, liti, adunate e proteste. I sostenitori del pane bianco inizierebbero a considerare avversari politici gli amanti del pane integrale. Se questi ultimi fossero la maggioranza, tutti i sussidi sarebbero dirottati verso il mercato del pane integrale e quello bianco potrebbe persino essere proibito. E viceversa, ovviamente. Questa è anche la ragione per cui i nuovi governanti, inizialmente, vengono salutati come salvatori, ma di solito terminano con il deludere le aspettative della gente. Nessun politico può ottenere l'impossibile e nemmeno la persona più saggia del pianeta può soddisfare contemporaneamente desideri opposti. Non è quindi una coincidenza che il dibattito politico, persino tra le persone comuni, risulti spesso alquanto animato e coincitato. Molti preferiscono addirittura astenersi e non discutere affatto di politica per evitare di guastare conoscenze ed amicizie. Ottavo mito. La democrazia è indispensabile per sviluppare nelle persone un senso di appartenenza alla comunità. In democrazia, ogni differenza di opinione conduce ad uno scontro per conquistare potere e risorse. E in tale lotta, un gruppo può vincere solo a spese degli altri. Tutti avanzano determinate pretese verso lo Stato e quest'ultimo, nel soddisfarne alcune, costringe sempre qualcun altro a pagarne i costi. A causa di tale sistema, i cittadini crescono sempre più viziati. Essi avanzano sempre più pretese dai propri governanti. Essi lamentano se non ottengono risposte commisurate. Seguendo queste pericolose dinamiche, il sistema indebolisce gradualmente la fiducia che le persone ripongono in se stesse, nonché la loro abilità di essere autonome, indipendenti e di provvedere ai propri cari. Allo stesso tempo, esso scoraggia le persone a intraprendere spontaneamente azioni di mutuo soccorso, in quanto già costrette dall'eccessivo carico fiscale ad aiutare il prossimo in via continuativa. Oggigiorno, chiunque voglia avviare un club sportivo, un evento culturale, una start-up, un centro di accoglienza o un'associazione ambientalista, prova innanzitutto ad ottenere una sovvenzione dal governo locale o nazionale. In altre parole, cerca di finanziare con i soldi degli altri il proprio passatempo. Un sistema così congegnato, però, ha ben poco a che fare con quell'idea di comunità solidale che si vorrebbe associare alla democrazia. La mentalità, purtroppo, si è ormai democratizzata, a tal punto che la maggior parte dei cittadini non riesce neanche a capire quanto le proprie idee ed azioni siano in realtà diventate antisociali. Nono mito. Democrazia significa libertà e tolleranza. Uno dei miti più coriacei è quello che identifica democrazia con libertà. In realtà essi si situano agli antipodi. In una democrazia ciascuno deve sottomettersi alle decisioni del governo. Il fatto che il governo sia eletto dalla maggioranza è una questione del tutto irrilevante. La coercizione statale resta tale tanto che sia esercitata da un dittatore quanto da una maggioranza. In questo senso non vi è alcuna differenza fondamentale tra una democrazia e una dittatura. Libertà, al contrario, significa non essere costretti a fare ciò che la maggioranza pretende e poter decidere in modo autonomo. La libertà non può misurarsi con l'opportunità di poter votare, quanto piuttosto con l'ampiezza di ciò su cui non votiamo. Purtroppo l'ampiezza delle materie su cui non votiamo a maggioranza ma decidiamo autonomamente è andata sempre più restringendosi nell'attuale sistema. Sono numerosissimi gli scambi volontari e le interazioni sociali resi difficoltosi, se non addirittura impossibili, dalla iperproduzione normativa democratica. Ad esempio, serve un permesso dello Stato per costruire una tettoia o modificare l'estetica della propria abitazione? Questi e migliaia di altri esempi sono chiari esempi di dittatura e non di libertà. La ragione per cui gli abitanti delle democrazie occidentali godono di certe libertà non dipende dall'attuale forma politica democratica, ma dalle tradizioni classico-liberali o libertarie sviluppatesi nei secoli passati, ben prima dell'avvento delle moderne democrazie. Molti cittadini occidentali non vogliono rinunciare alle conquiste del passato, malgrado il loro spirito di libertà venga continuamente indebolito dall'interferenza democratica. Quel che oggi avanza delle nostre libertà, quindi, lo dobbiamo alla tradizione liberale classica che in qualche modo è riuscita a durare nel tempo, non certo alla democrazia. Decimo mito. La democrazia promuove la pace. È risaputo che le democrazie amano la pace, vero? Beh, non proprio. Accade di frequente che esse si rivelino decisamente guerrafondaie. Gli Stati Uniti, la democrazia più potente al mondo, ha avviato decine di guerre. I suoi vertici hanno perpetrato diversi colpi di Stato, rovesciato governi, spalleggiato dittatori e persino bombardato popolazione di civili indifesi anche con l'uso di bombe atomiche. Attualmente gli Stati Uniti mantengono truppe in oltre 700 basi militari sparse in 100 paesi, spendendo per la difesa più del resto del mondo messo assieme. Una variante sul tema di questo mito vuole che le democrazie non si facciano mai guerre tra di loro. In realtà, nell'antica Grecia, le città stato-democratiche si facevano regolarmente guerre le une con le altre. E anche la prima guerra mondiale fu combattuta contro una Germania che non era meno democratica di Francia e Gran Bretagna. La ragione per cui le moderne democrazie occidentali si sono astenute dal farsi la guerra tra di loro, dopo la fine della seconda guerra mondiale, ha a che fare con circostanze storiche sulla base delle quali è difficile trarre conclusioni generali. La più importante di tali circostanze è l'aver aderito all'alleanza militare della Nato. Piuttosto, si potrebbe sostenere che la democrazia abbia portato ad un inasprimento dei conflitti geopolitici. Prima che la forma democratica divenisse popolare, cioè fino al XVIII secolo, i re facevano ricorso per combattere le proprie guerre a soldati mercenari. Non vi era una neva obbligatoria e gli abitanti di un paese non erano tenuti a combattere o odiare quelli del paese nemico. A partire dalla Francia post-rivoluzionaria, la leva obbligatoria venne progressivamente introdotta in tutti i paesi democratici. Intere popolazioni furono mobilitate per combattere contro i cittadini di altre nazioni ed i coscritti vennero trattati come carne da macello, immediatamente rimpiazzabili da nuovi soldati. Non è un caso che le due ideologie della democrazia e del nazionalismo divennero popolari simultaneamente. Democrazia significa governo del popolo, nozione che cova senza dubbio tendenze nazionaliste. Non si dimentichi come la disastrosa prima guerra mondiale, che aprì la strada ai regimi totalitari del XX secolo, sia imputabile in gran parte a paesi democratici o semi-democratici. Essa si è rese possibile solo dopo che il nazionalismo democratico ebbe respinto gli ideali del liberalismo classico. Undicesimo mito In democrazia i cittadini ottengono ciò che vogliono. L'idea di base della democrazia è che per suo tramite i cittadini ottengano ciò che vogliono, o quantomeno ciò che vuole la maggioranza. Sembra un ragionamento corretto, ma in realtà è ben differente. Ad esempio possiamo assumere che tutti siano a favore di una migliore istruzione, sanità o sicurezza, pur se tuttavia non stiamo affatto beneficiando di un miglior sistema educativo sanitario o di protezione. Questi settori, gestiti dallo stato democratico, si rivelano spesso inefficienti e burocratizzati, proprio come nel sistema centralizzato sovietico. Questo paragone mostra come la democrazia conduca in modo inevitabile ad assumere certi tratti tipici del socialismo. La verità è che in democrazia le persone non ottengono affatto ciò che vogliono. Il criterio democratico basato sul motto «Una taglia per tutti» porta a centralizzazione, burocrazia e monopoli. Tutti tratti tipici dei regimi socialisti, che inevitabilmente sono causa di costi elevati e scarsa qualità. Il libero mercato, invece, non opera secondo processi democratici. Tuttavia, in un certo senso, è più democratico della democrazia, perché ciascun individuo è libero di compiere le proprie scelte, invece di subire quelle del governo. Dodicesimo mito. Siamo tutti democratici. Se la democrazia si dimostra tanto carente nel soddisfare le aspettative dei cittadini, com'è possibile che goda ancora di ampissimi consensi? Non è forse per il fatto che ogni cittadino di buonsenso sia automaticamente un democratico, nonostante ogni tanto si lamenti del proprio governo? La questione è discutibile, perché ciò in cui una persona crede davvero, si misura non tanto con le sue parole, quanto con le sue azioni. In realtà, molti democratici di buonsenso sarebbero senz'altro contenti di poter sfuggire a quelle regole che apparentemente essi stessi hanno scelto tramite il voto. Chi pagherebbe davvero i contributi pensionistici in modo volontario, ignorando persino se l'attuale sistema sarà ancora in pieno il giorno in cui andremo in pensione? Quanti servizi pubblici di bassa qualità e prezzo elevato attualmente imposti sceglieremmo di pagare volontariamente se fossimo liberi di destinare i soldi per l'acquisto di altri servizi? Se in una città a 20 km di distanza le tasse fossero meno opprimenti e la burocrazia meno invasiva, chi deciderebbe di trasferirvisi pur sapendo che non avrà alcun diritto di voto? Tanti sicuramente lo farebbero. Molte persone, già oggi, votano con i piedi, emigrando verso regioni del pianeta più prospere, anche se non potranno votare alle elezioni. La verità è che prosperità e benessere si basano sul grado di libertà economica di cui godono gli individui e sul grado di certezza dei loro diritti di proprietà. Non dipendono affatto dal grado di democrazia che caratterizza il loro sistema politico. Tredicesimo mito. Non vi è alcuna alternativa migliore. Se qualcuno osasse affermare di essere contro la democrazia, immediatamente verrebbe sospettato di essere a favore della dittatura. Si tratta però di una deduzione senza senso. La dittatura non è la sola alternativa alla democrazia. L'alternativa all'acquisto democratico di un'automobile non è quella di un dittatore che la scelga al posto nostro, ma che la si possa acquistare in totale autonomia. Perché mai allora le persone non dovrebbero essere lasciate libere di organizzarsi in modo differente da quello dello stato-nazione in cui governa il popolo? Perché ad esempio non potrebbero organizzarsi in comunità volontarie? La decentralizzazione, invece, è fortemente osteggiata o persino proibita dai nostri governanti. Se la nazione democratica costituesse davvero un ottimo sistema di governo, da essa ci si aspetterebbe tanto l'opzione di farci parte quanto quella di separarsi volontariamente. Eppure, tale libertà di scelta non è concessa da alcuno stato democratico. In nessuna nazione, inclusi gli Stati Uniti, è permesso se cedere per dare vita a città, province o stati minori indipendenti. Alla prova dei fatti, la tendenza dei paesi democratici è quella opposta. Imporre ulteriore centralizzazione. L'Unione Europea, ad esempio, sta gradualmente trasformandosi in un super stato democratico, col dubbio vantaggio che un tedesco potrà avere voce in capitolo su come debba vivere un italiano e viceversa. In questa mega democrazia, ciascun paese sarà in grado di scaricare sugli altri le conseguenze delle proprie irresponsabili politiche economiche. Ma più grande è uno stato democratico, più eterogenea la sua popolazione, maggiori le tensioni che sorgeranno. La democrazia può anche aver esordito come grande ideale a difesa del popolo. Tuttavia, dopo 150 anni di pratica, i risultati non sono certo positivi. Le conseguenze di tale sistema politico sono ogni giorno evidenti attorno a noi. Burocrazia sfissiante, parassitismo diffuso, megalomania dei politici, dipendenza dei cittadini dello stato sociale, criminalità e comportamenti antisociali, mediocrità e standard scadenti, cultura del malcontento, miopia politica. Le democrazie occidentali hanno seguito le orme dei paesi socialisti e sono divenute stagnanti, corrotte, oppressive e burocratizzate. Ciò è accaduto non perché l'ideale democratico sia stato tradito, ma per ragioni opposte, ovvero per la sua natura collettivista. Fortunatamente è possibile un'altra strada, anche se molti trovano difficile anche solo immaginarla. La soluzione è meno democrazia, meno stato e più libertà individuale. Il mondo occidentale necessita di un nuovo ideale che combini dinamismo, libertà individuali e armonia sociale. Lo stato nazione e la democrazia che lo accompagna sono fenomeni storici obsoleti, appartenenti al XX secolo, non al XXI secolo cui stiamo vivendo. Il cammino dell'umanità verso l'autonomia e la libertà non passerà attraverso le grandi democrazie, ma sarà reso possibile dalla decentralizzazione e da una organizzazione della società in piccole unità amministrative, plasmate dai residenti stessi. In conclusione, è arrivato il momento di liberarci dalla tirannia della maggioranza. Se vuoi sapere di più su come tutto questo ha avuto inizio e come le democrazie sono diventate sempre più forti, non puoi perderti il video sulla truffa più grande della storia, quella della monita, che ti spiego in questo video. Ci vediamo lì, ciao ciao.